Angoli da scoprire in Vereto. Siamo andati a vedere il fiume Boite, il torrente che ha realizzato la Val Boite, la quale intercetta tra le altre anche Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Valle di Cadore. Il torrente si avvicina nella zona di Fiammes che vediamo in queste immagini alla pista dell'aeroporto di Cortina d'Ampezzo, ormai dismesso dagli anni 70. Le acque cristalline creano delle piccole spiagge con i sassi bianchi davvero suggestive. È un luogo ideale per delle piacevoli camminate con la famiglia. Il torrente nella località Fiammes incontra anche spiaggia verde che vediamo in queste immagini, un'area a disposizione di famiglie con giochi ma anche con ristoranti per poter prendere un bel bagno di sole. L'area può essere raggiunta anche in macchina ma vi si può arrivare anche attraverso una strada di sassi pianeggiante praticabile anche con i passeggini lungo uno spettacolare bosco di larici e con partenza dall'hotel Fiammes, posto poco distante. Subito dopo si incontra questa forra del Felizon, uno straordinario canyon scavato dal torrente Felizon con degli angoli suggestivi ed un'acqua cristallina che fa venire voglia di fare un bagno.